Ok, abbiamo visto nelle tre lezioni precedenti la storia della gravitazione universale da Nassimandro fino a Newton e oltre. Un passo particolarmente importante è l'interpretazione delle leggi di Keplero sull'orbita dei pianeti. La prima legge dice che le orbite dei pianeti sono delle ellissi, questo è il pianeta, qui c'è il Sole, dove il Sole sta in uno dei fuochi. Questo si può in realtà generalizzare dicendo che le traiettorie dei corpi celesti nei sede massolari sono delle coniche. Possono essere ellissi, possono essere iperboli, possono essere parabole. Tra un attimo vedremo cosa le distingue. E prima legge dice questo. La seconda, quindi non sono in generale circonferenti, la seconda legge specifica come viene percorsa l'orbita. A seconda di quale parte dell'orbita il pianeta sta percorrendo la sua velocità è diversa. Più lontano è, più è lento. In particolare, fatemi ridisegnare le liste, a parità di tempo, nel caso della Terra per esempio potrebbero essere giorni, l'area coperta dal raggio che congiunge il Sole e il pianeta è sempre la stessa. Quindi questa è una specie di triangoloide con la base curva che ha sempre la stessa area. Quindi se l'altezza di questo triangoloide è grande, l'apertura angolare è piccola. Se siamo vicini al Sole, per avere la stessa area, anche di più, devo avere un percorso più lungo. Quindi vicino al Sole la velocità è più grande. terza legge di Caprero. Attenzione, mentre le prime due parlano di caratteristiche della stessa orbita dell'orbita, dell'orbita di ogni singolo pianeta, la terza legge confronto a orbite diverse. E invece la cosa seguente, se considero come R la distanza media del pianeta dal Sole e T il periodo dell'orbita, cioè il tempo necessario a completare l'orbita, allora la terza potenza della distanza media è proporzionale alla seconda potenza del periodo dell'orbita, o se preferite, il rapporto tra R la terza e T la seconda è costante per tutti i pianeti. T è il periodo dell'orbita, cioè il tempo necessario a completare l'orbita. Da qualunque punto il pianeta parta, il tempo necessario a tornare lì. come è molto circolare, ma questa volta l'orbita è in generale lì. E' più chiaro? Perfetto. Attenzione alla differenza, ripeto, stessa orbita, orbite diverse. Ok? Queste tre leggi, che sono leggi empiriche, Cheplero le ha formulate perché ha a sua disposizione una serie di dati astronomici e ha cercato di riassumere cioè, poi dare disposizione che si comportano in questo modo ma non aveva idea di quale fosse la ragione per cui questo accade. L'interpretazione dell'esil Cheplero è stata da molti è stata eseguita correttamente e completamente da Newton pubblicata nel 1687 in principio queste si spiegano vengono interpretate da un quadro teorico teoria in greco tutta la visione vedo oltre vedo questo e oltre questo vedo ciò che c'è sotto quello che spiega che indagata i fenomeni fenomeno in ogni greco ciò che appare ciò che si vede se ho due attenzione questo normalmente viene si glisse su questo viene trascurato ma è un punto fondamentale se ho due oggetti puntiformi con mi cioè dove posso trascurare la struttura interna separati da una certa distanza r dotati di massa n grande n piccolo questi si attirano con una forza la cui intensità è proporzionale al prodotto delle masse inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza moltiplicata per una costante g la costante g medie la cosa medie la misura la forza è in newton massa in chilogrammi distanza in metri quindi g viene in newton per metro quadro diviso chilogrammo alla seconda ok inoltre è una forza attrattiva per questo l'equazione completa che dà il carattere vettoriale della forza vede un segno meno e vede questo era quel cappuccetto che è un versore se m è il sole la forza che agisce su m piccolo è diretta in modo tale da far diminuire r questo è il significato fisico del meno r piccolo è il versore unitario nel verso della congiungente i due punti attenzione questo vale se parliamo di oggetti puntiformi se ho due oggetti estesi ci sono ad esempio le lune di marte fogos ed emos hanno forme stranissime ora calcolare la forza di attrazione gravitazionale tra due oggetti di forma complessa non è per niente semplice perché non posso applicare questa formula alle due massi interne ma devo fare una somma di ogni particella della primo corpo e ogni particella del secondo la cosa diventa semplice se e solo se dove lo straccio chiedo scusa grazie i due oggetti hanno una particolare simmetrie se ho un oggetto di forma sferica e ad esempio omogeneo cioè ha una diversità che è la stessa dappertutto allora la forza che questo oggetto esercita all'esterno di se stesso è la stessa che avrei se tutto fosse concentrato nel suo centro questo è un teorema dimostrato che l'ha portato neanche molto tempo non è un teorema quattro per dimostrare per dimostrare lo sterro e la matematica ci farete l'anno prossimo quindi adesso con anticipazione se invece la distanza tra gli oggetti è molto grande rispetto alle loro dimensioni posso assumere il corpo ma è una semplicitazione ok come si arriva a questo beh abbiamo visto la volta scorsa che se metto insieme la terza legge di Kepler e la formula che la relazione che mi dà la relazione centripeta nel caso di un moto circolare arrivo a questa espressione ok la ripetiamo ditemi solo se posso cancellare la lavagna se è tutto chiaro qui qua perfetto io dimentico sempre eccolo qua allora abbiamo detto che la generazione centripeta che è un oggetto di una traiettoria circolare qui possiamo fare la derivazione algebrica solo in un caso semplice con le gradi circolari più n piccolo più n grande vale b alla seconda diviso r la velocità tangenziale o orbitale se preferite diviso il raggio della circonferenza ok quindi la forza che agisce su m piccolo dal secondo principio della dinamica massa per accelerazione vale m b alla seconda diviso r ma nel caso di moto circolare v è 2 pi greco r diviso fi chi è il periodo dell'orbita questo non dovrebbe giungere di nuovo quindi e che poi si scrive come m frazo r per 4 pi greco al quadrato r alla seconda diviso fi alla seconda semplicemente il quadrato di questo e divido per r ok tutto chiaro perfetto ma abbiamo appena visto l'ho cancellato prima ahimè che il quadrato del tempo di percorso orbitale del tempo dell'orbita e il cubo del raggio medio dell'orbita in questo caso del raggio dell'orbita sia circolare sono proporzionali quindi al posto di t quadro posso sostituire r alla terza su k quindi la forza diventa 4 pi greco qua alla seconda m sopra ho r quadro sotto r questo li posso sostituire al denominatore ho r alla terza diviso k quindi ottengo 4 pi greco alla seconda m per k diviso r o quindi la forza è proporzionale a r alla meno 2 e la forza che agisce su m anzi facciamo così f vi ricordo è la forza che agisce su m piccolo quindi n piccolo del pianeta che andiamo che ordine attorno al sole subisce una forza che è proporzionale alla sua massa e diversamente proporzionale alla razza della sua orbita al quadrato ok ma non possiamo identificare il terzo principio della dinamica che dice che certo è vero che il sole attrae la terra ma è vero anche che la terra attrae il sole ogni forza ha una forza di razione uguale al contrario e l'intenzione della forza è esattamente la stessa di conseguenza se chiamo f' la forza con cui la terra attrae il sole e ripeto lo stesso ragionamento avrò che questo è proporzionale alla massa del sole diviso r alla sponda quello che qui avremo un k' primo non un k per cui gli r sono identici devono essere identici i prodotti massa della terra per la costante della terza legge rispetto alla terra e massa del sole per la costante della legge rispetto al sole ok cosa significa questo significa che se divido per le due masse quindi ho k fratto m grande e k' fra m piccolo qui ho tutte quantità relative al sole e tutte quantità relative alla terra che hanno lo stesso valore di fatto a questo rapporto che è lo stesso sia chi lo vede dalla terra che lo vede dal sole si dà il nome di g grande diviso 4 pi greco alla seconda così che si semplifica questa parte in questo modo f viene ad essere uguale a questo k che vale questa grandezza g m m grande su r 4 abbiamo usato la definizione di 4 di a 0 tra le giubbieta e quindi il secondo principio della dinamica e la terza è il terzo principio della dinamica ok ci sono domande? questo 4 pi greco è dovuto al fatto che voglio semplificare questa parte il k che è qua diventa questo per massa del sole e mi viene il fatto pi greco va via g rimane e viene m grande per m piccolo diviso al quadro ok la prima conseguenza importante di questo ditemi dove posso cancellare qua sopra ok Newton applicata c'è Newton senza conoscere il valore di g ma tenendo solo conto del fatto che la forza è inversamente proporzionale al quadro della distanza posso confrontare l'accelerazione gravitazionale sulle superfici della terra g per 9 81 metri al secondo quadrato con quella lunare allora questa da dove viene beh se questa è la terra questo è il raggio terrestre anche un oggetto che sta sulla superficie della terra subisce questa forza e se metto a confronto la seconda legge della dinamica massica di questo sassolino per la sua accelerazione e la forza di gravitazione universale ottengo un'interpretazione di g se le due massi si semplificano la massa inerziale vale quanto la massa gravitazionale questo significa che sulla superficie della terra tutti i corpi cadono con la stessa accelerazione di gravità che è la costante g per la massa della terra diviso il raggio della terra al quadrato a questo vediamo il nome di g se anziché usare il raggio della terra uso la distanza terra-luna che è circa 380.000 chilometri trovo esattamente l'accelerazione a cui sto posta la luna che posso calcolare anche con la velocità orbitale lunare diviso il raggio dell'orbita lunare ottengo lo stesso dato quindi questo schema interpretativo è in grado di spiegare il modo della luna e il modo degli oggetti sulla terra del fatto per quale ragione è oggettivato tutti con la stessa accelerazione di gravità è dovuto al fatto che la porta a cui sono soggetti è questa e la massa gravitazionale e la massa inerziale sono identiche principi per misurare G è stato necessario aspettare circa un secolo un secolo e mezzo 1800 anni mi pare lord Henry Cavendish e G ha un valore molto piccolo G vale 6,67 per 10 alla meno 11 newton per metro quadro su chilogrammo alla seconda numero molto piccolo 0 11 0 6 l'importanza della conoscenza di questo numero è enorme perché perché mi permette da qua di misurare la massa della terra adesso lo facciamo il valore di G con non ve l'avevo fatto vedere una balanza di torsione immagina di avere lo rivedremo a questo punto in questo video immagina un filo sospeso che regge un'asta su quest'asta metti due sfere identiche della stessa massa in un piccolo ok e misuri precisamente la posizione di questo filo in realtà questo filo ha in mezzo uno specchietto se questo specchietto viene mandato un raggio di luce che viene ripreso in una certa posizione sullo schermo ok e registro la posizione dico se le masse sono da sole lì dove stanno la luce arriva qua dopo di che cosa faccio avvicino due altre masse una di qua e una di qua identiche ma avvicinandole queste due tadeoni si attraggono perché l'asta viene ruotata e quindi il rilascio di luce non è più depresso qua ma un pochino qui là da questa anchezza riesco a stabilire quant'è la forza tra i due oggetti quindi misuro F e me lo conosco e me lo conosco e me lo conosco R la misura perché basta di misura questa distanza posso trovare G si chiama bilancia di torsione perché qui lo si torce facciamo vedere ma non posso vedere conoscendo G è un utile esercizio quello di calcolarsi la massa della terra attenzione questo non è un esercizio puramente scolastico quando è stata calcolata la massa della terra si è proceduta esattamente in questo modo il raggio della terra sono circa 6.400 km vado a prossimo quindi 6.4 per 10 alla 6 metri ok 6.371 in realtà non fa niente quello che ci serve G piccolo sono 9.81 metri al secondo quadrato e G è scritto in alto quindi se l'accelerazione gravitazionale sulla terra vale G grande massa della terra diviso il raggio della terra al quadrato significa che la massa della terra vale G piccolo per R di quadro diviso la costante di gravitazione universale cioè posso cancellare da questa parte questo calcolo vi consiglio di farlo perché vi aiuta a lavorare con i numeri grandi usando la calcolatrice diviene 981 metri al secondo quadrato per 6,4 per 10 alla 6 metri alla seconda diviso 6,67 per 10 alla meno 11 Newton per metri quadrati diviso chilogrammi alla seconda allora quando devo fare un calcolo del genere è meglio procedere per i gradi prima lavoro con i coefficienti 981 per 6,4 alla seconda diviso 6,67 e ottengo fatemi usare la calcolatrice mia se la trovo eccola qua allora ripeto 981 per 6,4 però è la seconda quindi 6,4 al quadrato diviso 6,67 che fa 60,2 per la potenza di 10 qui ho 10 alla sesta alla seconda fa 10 alla dodicesima meno meno 11 fa più 11 perché questo è denominatore ok la divisione significa esponenti denominatore meno esponente denominatore d'accordo 12 più 11 23 qui ho però 60 quindi lo scrivo in modo scientifico 6,0 diciamo per 10 alla 24 kg controlliamo che vengano proprio kg allora qui ho newton a cosa corrisponde i newton sono kg per metri diviso secondi al quadrato perché è una forza per un'accelerazione quindi qui ho metri e metri al quadrato questi metri al quadrato vanno via con questo metri al quadrato ok kg alla seconda e kg si semplificano rimane 1 c kg al denominatore e ho metti la seconda e metti la seconda che vanno via quindi ho al denominatore non ho niente al denominatore 1 c kg questo vale kg quindi è giusto bene la massa 6 invece la 20 3,5 di 1 9 è rotta se fosse il caso un po' preciso 7 10 24 kg abbiamo misurato la massa della terra sono domande e non si ripeto con calma a casa mi fate anche questa quanto tempo ci fanno ok ce la facciamo nello stesso modo possiamo calcolare la massa del sole ok posso cancellare per calcolare per calcolare la massa del sole utilizziamo i dati orbitali della terra prego no certo che no non abbiamo non abbiamo il g del sole alla nostra distanza però abbiamo che cosa abbiamo qui mettiamo il sole qui mettiamo la terra il raggio medio d'orbita terra sole è 150 milioni di chilometri quindi circa 1,5 10 da 6 10 da 3 10 da 9 4 di 2 10 da 11 1,5 10 da 11 metri ok l'anno la durata dell'orbita 365 giorni giorni alla sigla D cioè 365 per 24 per 3600 secondi in un'ora viene circa 3,1 mi pare in 10 alla 7 secondi con questi dati cosa facciamo beh l'accelerazione con cui il sole agisce sulla terra è sempre g massa del sole raggio dell'orbita terrestre raggio terra sole quadrato questa vale quanto la velocità orbitale al quadrato diviso il raggio dell'orbita terra sole che che abbiamo che abbiamo già visto cosa dobbiamo mettere mi viene 4 di greco alla seconda di raggio terra sole diviso il periodo orbitale al quadrato e eguagliando queste due ottengo la massa del sole che vale 4 di greco alla seconda per il raggio orbitale alla terza che viene moltiplicato per questo diviso il periodo orbitale al quadrato e diviso ancora g ok fate questo calcolo per l'esercizio d'accordo? l'ultimo corso che diamo oggi è un esercizio del libro vedete se posso cancellare questi dati li avete copiati? perfetto come cambia g abbiamo visto che le sezioni di gravità qui c'è la terra g va g grande massa della terra diviso distanza qui assumendo che la terra sia omogenea questa è la distanza dal centro terrestre come cambia c'è piccolo se disposto dal livello del mare alle terrestre la montagna deve valere di meno perché sono più lontano dal centro della terra mi sembra perché non so più in piazza ma le orimpiede fatte a città del messico una città su un alto piano quindi più in alto del livello del mare i record non furono omologati perché g è più piccolo salto in alto non vale quanto un salto in alto fatto a livello del mare perché a livello del mare l'atleta deve spendere un'energia maggiore che g è più grande facciamo il caso del monte Everest che mi sembra che sia uno degli esercizi del libro non mi ricordo più a che pagina è ma si trova eccolo qua l'altista del monte chiamiamolo questa distanza qui H tra la cima picco e la superficie e il livello del mare è 8.850 a meno tese quanto vale il g? ora qui ho g0 se questo è il raggio della terra il raggio della terra qui me lo dà un pochettino più preciso è dove lo vede 3 6,37 per 10 alla 6 metri cambia poco dai ok quindi sulla cima dell'Evere GE ho G grande la massa della terra i raggi della terra più H al quadrato la distanza è un po' più grande ok quindi sommo questi chilometri a questi quindi qui ho circa 8.850 per 10 alla 3 metri quindi intervengo sulla terza decimata grazie ok quando questo succede come di solito se ho numeri molto piccoli la calcolatrice mi dice ciao ciao è più semplice operare in questo modo qui fattorizzo rg rt lo tiro fuori dalla stressione quindi metto un rt quadro qua qui ho 1 qui ho h su rt questa parte vale proprio del identica a quella di prima in generale se ho questo ci servirà anche più avanti e lo vedrete meglio nella matematica dell'anno prossimo se ho un numero x che il modulo è molto più piccolo di 1 questa scrittura sono sicuro non avete dubbi a interpretarla allora le potenze del tipo 1 più x tutto la n la potenza nesima di questo binomio posso approssimarla a 1 più n volce x voglio finire questa parte quindi nel nostro caso questa qui questa parte 1 su 1 più h su rt alla seconda posso pensarla come 1 più h su rt alla meno 2 sicuro questo numero è decisamente piccolo dell'ordine del millesimo questo posso anche scriverla come 1 l'esponente è meno 2 o meno 2 volte h su rt quindi la differenza tra g0 e ge è g0 volte questa parte e lì la calcolatrice arriva a calcolare ok fate il calcolo e lì forse che per oggi ci troviamo qua grazie